Elbiz, società di micromobilità italo-americana, debuttato venerdì in borsa a New York al termine della business combination con la SPAC Green Vision Acquisition Corp. La società aggregata manterrà il nome Elbiz e avrà il ticker HLBZ per il Nasdaq. L'operazione ha portato entrate di cassa per circa 24 milioni e mezzo di dollari. La società di micromobilità elettrica ha più di 2 milioni e mezzo di utenti. Non è stato facile, devo essere onesto, ma ci siamo riusciti e ora è il momento di festeggiare. Questo non è un punto di arrivo, questo è solo l'inizio del nostro viaggio, ha detto Salvatore Palella, CEO di Elbiz. La quotazione consentirà a Elbiz di implementare il piano di espansione dei servizi di micromobilità in altre città d'Italia, d'Europa e degli Stati Uniti. Al contempo permetterà di sviluppare le attività legate alle altre linee di business del gruppo, Elbiz Kitchen con i suoi servizi di food delivery e Elbiz Media con i suoi servizi di live streaming.